ciao e allora ok molti di voi è la prima volta che ci sentono no? perché a noi non ci piace venire qui vicino a Bergamo cerchiamo di aiutare le dati in questa zona una sola cosa, poi fate quel cazzo che volete io voglio un cane voglio un cane peroso, un cane di là, un cane di c'è un simbolo forte, un cuore di appunsa, amici miei è un cane motore, figlio di troia, quando vorrei una storia d'amore, anche sotto il te